Ora è con noi il ministro per le politiche... Un altro ministro abbiamo, stasera siamo fortunati. E lui è il ministro per le politiche giovanili, è lo sport, è con noi Vincenzo Spadafora. Buonasera, buonasera, ben trovato? Grazie. Grazie a lei. Allora, eccoci. Grazie intanto. Grazie a lei. Dunque, ho parlato di disorientamento, diciamo, so quanto... Intuisco quanto possono essere stati complicati queste ore e questi giorni. Da mezzanotte sarà in vicore il nuovo DPCM. Palestre e piscine verranno chiuse. Stop anche, se ho capito bene, alle scuole calcio? Sì, non proprio. Nel senso che i centri sportivi all'aperto, che hanno spazi all'aperto, restano aperti, sono fruibili. Ovviamente all'interno non si potranno praticare sport da contatto. Quindi i ragazzi che vogliono andare lì e giocare a pallone, come hanno fatto in passato, non lo possono fare. Se vanno lì all'aperto, invece di andare al parco, e si allenano, fanno attività fisica, fanno riflessioni, fanno, diciamo, tutto quello che non li mette in contatto rispettando il distanziamento, lo possono fare. C'è una scuola calcio, quindi può fare tutto tranne la partita, sostanzialmente? Può fare tutto tranne quello per cui probabilmente esisteva. Però, diciamo, diventa anche un modo per evitare che tutti i ragazzi siano costretti solo ad andare nei parchi, all'aperto, per svolgere un po' di attività fisica sacrosanta. Lei è una persona pratica, e quindi ne approfitto, perché so che possiamo dirci la verità. Continuo a dire disorientamento. Oggi a Milano è arrivato il Giro d'Italia, peraltro bellissimo. La città è stata divisa in due dall'arrivo del Giro d'Italia, per andare da una parte all'altra l'unica cosa era prendere mezzi sotterranei. Le metropolitane erano evidentemente stracolmi. Ora, è chiaro che quando si dice con il DPCM chiudiamo i ristoranti, non andiamo al cinema, se c'è un posto dove il distanziamento è evidentissimamente facile, è quello, e poi arriva la manifestazione sportiva con migliaia di persone in giro, diventa tutto incomprensibile. Sì, guardi, io mi rendo conto che a volte le scelte lo siano agli occhi di tante persone. Io ricevo messaggi di rabbia, di dolore di tutte le persone che sono a casa e che hanno guardato sicuramente non bene questi provvedimenti. Diciamo una cosa, giusto per fare un attimo un ragionamento, come dice lei, sincero e autentico. Noi abbiamo vissuto una prima fase del nostro Paese, dove con l'inizio dell'epidemia abbiamo sicuramente avuto il coraggio di prendere decisioni molto drastiche che ci hanno salvato anche rispetto ad altri Paesi. Purtroppo, oggi, a me dispiace dirlo, ma chiaramente è una critica che va innanzitutto a me stesso e quindi, diciamo, a chi fa il mio lavoro, dobbiamo dire che forse le misure che noi avevamo pensato durante l'estate per prevenire o per andare comunque incontro con forza a questa seconda ondata, le misure che abbiamo preso in generale come sistema Paese, quindi il Governo, le Regioni, e in quota parte anche una parte di cittadini, non hanno prodotto gli effetti che ci aspettavamo. Cioè, questo è un dato, se noi non partissimo da questo, anche rispetto proprio all'esempio che faceva lei, i due casi più emblematici sono sicuramente il sistema dei trasporti locali ed è sicuramente la tenuta del sistema sanitario. Però, sempre per completare il discorso e non per esimerci da responsabilità, va detto anche che Paesi che noi guardiamo come modelli di efficienza massima, sul modello dei trasporti, per esempio la Germania, o su altri, sul sistema sanitario, oggi, pur avendo sistemi diversi ai nostri, stanno nella nostra stessa situazione, se non peggio. Ripeto, questo non è che ci consola... Non è consolatorio per niente, anzi. No, assolutamente. Però per dire che noi sicuramente dobbiamo fare, come Governo, secondo me ha la tua critica rispetto al fatto che, sapendo che ci sarebbe stata questa seconda ondata, probabilmente dovevamo immaginare anche delle misure con effetti diversi. Questo non è avvenuto, però diciamo anche che non è avvenuto perché stiamo combattendo contro un nemico che stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno. Però probabilmente riaprire le discoteche se ne poteva fare a meno quest'estate. Quando parlo, secondo me, di errori discutibili, di scelte discutibili fatte durante l'estate, sicuramente mi riferisco anche a questo. Senta, posso immaginare anche il suo tormento in questo DPCM, e immagino che non sia d'accordo su tutto, forse su poco, non lo so, insomma, sulle misure prese. Però per quel che la riguarda ci sono adesso società di dilettanti che rischiano l'esistenza. Lo sport è quello, lo sport non è la Serie A. La Serie A se la stracava alla fine. Ma tutte le società dilettantistiche in Italia, di tutti gli sport, anche i minori, adesso sono piccole imprese, di fatto, che soffrono e soffriranno tantissime, oltre soprattutto a soffrire gli utenti, cioè i ragazzi e i ragazzini. Guardi, io prima ancora di essere un ministro sono un essere umano. Sono una persona che sta vivendo inevitabilmente anche con l'ansia e le difficoltà, anche se cerco di non far condizionare la mia azione di governo da questo. Io sono passato nel giro di poche ore da essere considerato dallo sport di base, che le cita il dilettantistico, il ministro che lo aveva sostenuto di più, a essere quello che sta uccidendo lo sport in Italia. Ma io non mi sono mai fatto condizionare dai social e da queste considerazioni, né prima, quando mi osannavano, né adesso, che mi dicono che io stia ammazzando questo mondo. Perché questa esperienza, a chi come me governa il Paese in questo momento, insegna soprattutto una cosa, che non si può governare con una comunicazione semplicistica, per slogan, e che i problemi sono molto più complessi. Tutto questo mondo adesso per me è il mio obiettivo quotidiano del lavoro di tutti i giorni. Noi domani approviamo un decreto in Consiglio dei Ministri. La rapidità di attuazione di questo decreto creerà e farà di me, di noi, come Ministri, la nostra credibilità. Perché se i soldi arriveranno fra due mesi, molta parte di quel mondo scomparirà. E in questo decreto ci saranno due cose fondamentali, che sono i contributi, i bonus ai lavoratori sportivi, e un fondo perduto, perché molti non hanno più soldi neanche per pagare gli affitti, le utenze, e già nei mesi scorsi l'hanno dovuto fare con estrema sofferenza. Lei sa anche però che la casa integrazione, appunto, come dicevamo all'inizio, con Veltone, non è arrivata a tantissimi. Sì, ma il paradosso è che tutto il mondo dello sport non soffrisce alla casa integrazione. No, no, certo, non dico... Perché come lei sa, purtroppo sono lavoratori sportivi attivi. No, no, ma intendo dire che quindi gli aiuti che dovranno arrivare, speriamo che in questo settore... Sì, sì, perché la casa integrazione purtroppo non esiste per i lavoratori sportivi, perché i lavoratori sportivi hanno dei contratti totalmente atipici. Per tornare scusi alle cose pratiche. Le scuole calcio possono andare, continuare l'attività di scuole calcio, ma non possono fare le partite. Poi i ragazzini possono andare negli spogliatoi tranquillamente, ma non possono fare la partita. Io so che lei ritiene alcune di queste misure anche... No, no, ma chiedo... No, ma magari invece c'è una ragione che non conosco. No, la ragione è questa. Intanto tutte le cose che sono state chiuse, perché io sono tra quelli che si è battuto di più per... Ovviamente quando lei prima diceva d'accordo in disaccordo, è evidente ed è noto il mio disaccordo su questa scelta. Però le dico anche un'altra cosa. Io ero contrario ovviamente anche alla chiusura dei cinema, dei teatri. Quando poi ci siamo ritrovati davanti a dei numeri, e questo per il motivo che dicevamo prima, probabilmente perché noi non siamo stati in grado di arrivare a una situazione con dei numeri differenti, e abbiamo dovuto prendere una decisione del genere, lo abbiamo dovuto fare e io adesso lo rispetto. Perché rispetto anche... Chiaro, questo è chiaro. Perché non posso utilizzare i virologi e il CTS quando mi conviene e oggi che mi dicono che bisogna chiudere tutte quelle opportunità in cui le persone possono essere portate a mobilitarsi. Alla fine questo DPCM cosa fa? Limita le motivazioni per cui uscire di casa. Cioè ti chiude tutta una serie di cose per dire resta a casa, perché oggi non abbiamo un'altra soluzione. Quindi se non puoi andare al calcetto, se non puoi andare al teatro, se non puoi andare al cinema, teni a stare a casa. Lo so che è banale forse come lo sto raccontando. No, ma alla fine è quella. Però di fatto alla fine è quella. Anzi, sono parole di verità. Senti, Amlena ha dichiarato, se non sbaglio, che è più rischioso il ristorante che la palestra. Perché? Io ho detto una cosa semplicissima. Se io posso andare, era fino a sei, adesso fino a quattro persone, amici, in un ristorante, è difficile al tavo mantenere le distanze. E tanto meno mangiare con la mascherina o altro. In una palestra noi avevamo stabilito un protocollo molto rigido con un numero massimo di persone che potevano entrare nella palestra. E addirittura nel nuovo protocollo, che è durato ai miei tre giorni, il protocollo diciamo meno vissuto nella storia del Paese. Si sapeva già quando è uscito, insomma. La mia speranza fino all'ultimo, ovviamente, altrimenti questo sarebbe stato a prendere in giro le persone, era che invece quello aiutasse, a proposito di speranza, il Ministro della Salute, il Presidente del Consiglio, a non prendere poi questa decisione drastica. Però, appunto, penso che le palestre potessero essere più, pensavo, potessero essere più sicure, proprio per dei protocolli rigidi e calcoli che i NAS, che in queste settimane hanno girato in giro per l'Italia, non hanno chiuso un'unica palestra. Neanche un cinema e neanche un teatro. Ma infatti ci spiega lei che era lì? Qual è la razza? Perché davvero lei ha parlato di due cose importanti. Uno, la complessità. Devo dire che la politica in questi ultimi decenni non ha aiutato a favorire, diciamo, la cultura della complessità e la semplificazione ha portato poi spesso a quello che vediamo, primo. La seconda cosa, appunto, è la comprensione. Cioè, se uno ha una linea precisa che comprende, aderisce più facilmente. Ecco, per dirle, sciare, per esempio. Abbiamo visto le scene ieri di funivie stracolme di gente. Quello è incredibile da vedere. Al tempo stesso si parli a capire che gli impianti cistici rimarranno aperti, lo dico per fortuna di coloro che li gestiscono nei paesi che non di turismo, ma qual è la ragione? Perché quello sì e il cinema no? No, no, in realtà, invece, se non per le competizioni sempre di livello nazionale, gli impianti, diciamo, a livello amatoriale non saranno costruiti. Non si va sciare, quindi, quest'anno. Purtroppo, novembre, non si va sciare. Guardi, anche perché la verità è che questo mese, che non è un mese di piccoli sacrifici, è un mese di enormi sacrifici, almeno, insomma, questa è la verità. Fatto per evitarne altri a dicembre. Fatto per evitarne anche altri a dicembre, che notoriamente il mese lasci stare non solo per Natale, ma comunque, diciamo, proprio per la produttività, per gli acquisti, per il commercio, è uno dei mesi in assoluto più importanti. Quindi, io mi auguro che quei pochi settori che sono ancora rimasti aperti possano ancora esserlo, ma purtroppo questo dipenderà ancora dai dati che avremo nei prossimi giorni. Dunque, nel DPGM è saltata la positività di avere pubblico negli stadi, giusto? Sì. Lei si è detto preoccupato anche per il proseguimento del campionato di Serie A. Tra l'altro, ci sono a oggi 88 casi di positività al Covid su 600 calciatori, cioè 15%, che poi è una percentuale alta. Lei ha valutato anche la sospensione? Voi avete valutato la sospensione del campionato? In questo momento no, e le dico che io sono stato accusato di essere una persona contro il calcio e soprattutto contro la Serie A. Oggi che rimane aperta questa possibilità di disputare comunque la Serie A, ovviamente lo sport in base dice perché avete preferito la Serie A. La Serie A in realtà si è dato un protocollo che non ha funzionato come doveva, ma perché non ha funzionato? Perché non è stato rispettato. Cioè, questo è il vero tema. Altri esempi a livello internazionale, dove si sono create delle vere bolle, dove le squadre di calcio, di Serie A, di calcio, di altre discipline, si sono rinchiuse per tutelarsi e che hanno potuto effettivamente avere anche... Erika fanno proprio le bolle nell'NBA. Assolutamente, l'NBA è stato uno degli esempi più chiari. Però quelle sono state veramente bolle. Le nostre bolle sono state un po' così... con metodi discutibili. Il Covid prima colpiva persone con età elevata, no? E con patologie. Adesso molti sportivi, ne abbiamo tantissimi, da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, insomma, possiamo mettere delle fotografie, forse per mostrali, sono positivi. Che cosa è successo? Ma che ci ha insegnato quello che ci dice il virus, che nessuno è esente. Cioè, evidentemente, in ogni caso, poi è un caso a sé, ma sono tutte persone sicuramente che avranno provato a rispettare al massimo i protocolli. Però ecco perché poi alla fine l'unica soluzione diventa restare a casa, che è la cosa peggiore che gli italiani possano volere, soprattutto i ragazzi più giovani, in tanti, mi stanno scrivendo in questione, che vedevano nella possibilità di andare in palestra anche semplicemente la possibilità per qualche ora di trovare un momento di sfogo. Anche perché palestre, ristoranti e molti altri esercizi si erano adeguati spendendo soldi a delle normative anti-covid per mettere in sicurezza il locale. Sono molti soldi e noi con le risorse che daremo nel decreto di domani cercheremo di far recuperare anche soldi impiegati nei mesi scorsi. Questo per me è molto importante perché visto che il mondo dello sport non può aderire a tutte le altre misure, cassa integrazione o altro, le due misure che facciamo domani per i lavoratori e per le associazioni e società sportive saranno misure indispensabili ma i tempi saranno indispensabili. Io prendo veramente da lei l'impegno nei confronti di queste persone che oggi hanno gridato il loro dolore e la loro rabbia nei miei confronti nei confronti del governo del fatto che questi provvedimenti arriveranno sicuramente in tempi rapidi e cioè non oltre questo mese. Mese di novembre. Ministro, lei pensa che le misure sin cui adottate saranno sufficienti o voi state già pensando nel caso di un'evoluzione diciamo ulteriore del contagio a quello che molti temono, c'è un lockdown più stretto? Tre di PCM in undici giorni sono tanti. Io mi auguro di no a livello nazionale ma non escludo che a livello regionale possa essere necessario quindi da fare in accordo con le regioni delle chiusure in aree precise o in settori precisi. Vede l'avere adesso chiuso purtroppo alcuni settori intanto ci consentirà di dare a questi settori più risorse ma anche di monitorare ciò che resta aperto come funzionerà e che tipo di contagi ci saranno. Io non escludo affatto purtroppo che a livello regionale possano essere introdotte misure d'accordo col governo ancora più restrittive. Sulla polemica di Ronaldo che ha violato l'isolamento come è andata a finire poi? Con tutto l'affetto in questo momento diciamo Altro che pensare Diventa veramente diciamo per me No, no, no le dico non ci siamo sentiti ecco se vogliamo vogliamo dire così non ci siamo chiamati però in questo momento con tutto il rispetto perché adesso fra un po' le mie pagine saranno riempite di insulti da tifosi Non ha detto niente Con tutto il rispetto Vuole parlare anche di Juve-Napoli così facciamo pari In questo momento possiamo sono stati sicuramente due episodi cioè quello di Ronaldo un episodio non piacevole perché che se ne dica l'andata ha violato il protocollo e questo è andato di fatto perché c'è un'indagine aperta anche dalla procura di Torino e l'altra è una sentenza che io diciamo non discuto ma che sicuramente è maturata all'interno di una situazione diciamo che ha diverse anomalie poi la sentenza è un'altra storia Senta Ministro un'ultima cosa che cosa che cosa non ha funzionato fino a qualche settimana fa ancora si diceva noi non siamo come la Francia siamo stati bravi il nostro lockdown è servito abbiamo rispettato le regole quando più o meno gli esperti tutti dicevano siamo soltanto in vantaggio di due settimane no? Come insomma era abbastanza evidente che cosa non ha funzionato Ministro Che due settimane fa dovevamo stare zitti mi sembra una chiusura perfetta grazie signor Ministro grazie 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 molti alla prossima quando vuole grazie grazie